Antuono Castagna, un passato di consigliere comunale, nel giorno della visita del Vice Ministro Castelli ha avuto modo di interloquire con la Castelli sulla questione del terremoto? Sì, certamente. Sono un terremotato e praticamente di fronte alla chiesa parrocchiale di Casa Micciola. Ho chiesto al Ministro se faceva il giro della zona terremotata, della più terremotata del nostro paese e la Ministra mi assicurò che sarebbe passata per Via d'Aloisio e dove mi avrebbe incontrato si sarebbe fermata. In effetti ci siamo incontrati dopo circa un'ora a Via d'Aloisio e dove sta quell'incastellatura e imbracatura dei fabbricati terremotati, per la quale è stata spesa ultimamente una grossa cifra in euro, grossa cifra che teoricamente poteva, secondo il sottoscritto, essere utilizzata per fini più concreti. I fini più concreti sono questi, molti di quei fabbricati devono andare a terra, quindi si poteva già procedere se la struttura commissariale e tutti gli altri interessati al problema in terremoto avessero svolto le proprie funzioni correttamente dal 2017 in poi, cioè dal giorno del terremoto. In effetti è una storia molto triste quella che io sto raccontando, per un fatto molto semplice che con un terremoto di queste dimensioni, con un probabile intervento economico che si aggira intorno ai 600-700 milioni di euro, secondo me noi nel giro di quattro anni dovevamo già uscirne da questa storia ed uscirne pure bene, ma purtroppo la situazione è questa, non si riesce a capire perché, perché noi cittadini non abbiamo a disposizione la documentazione degli atti che sono stati fatti in questo lasso di tempo, quattro anni. Fino a questo momento l'Invitalia ha fatto un solo rapporto, rapporto che doveva essere annuale e doveva essere fatto nei tre mesi successivi alla scadenza dell'anno, era approvato nel mese successivo e così via. Il primo rapporto relativo al 2019 è stato presentato nel settembre-ottobre 2020 ed è stato approvato ancora più tardi, nel 2021 addirittura è stato fatto un pagamento, pagamento di 600 mila e rotti euro a fronte di che cosa? Dov'è la relazione la quale spiega minutamente che cosa ha fatto l'Invitalia e di conseguente quali erano le funzioni che aveva? Perché il commissario nel fare la convenzione con l'Invitalia ha trasferito le sue funzioni ad Invitalia. Quindi io non ho capito, dovremmo saperlo noi come cittadini di Casamicciola che cosa ha fatto quest'Invitalia per ricevere quei soldi, che cosa deve ancora fare per rapportarsi alle funzioni del commissario? Niente, non si sa assolutamente nulla, assolutamente nulla e di questo è responsabile anche la nostra amministrazione, la quale dovrebbe chiedere per conto dei cittadini dove stanno le carte e dovrebbe metterle sul sito del commissario come il commissario scrive ogni tanto ho dato a Tizzi e Caio 50 mila euro, 30 mila euro per fare i lavori di ordinaria e manutenzione. Cioè lavori di piccola entità, sui lavori di grossa entità noi siamo in difficoltà e io l'ho fatto presente al Ministro Castelli perché con il morto sul posto praticamente il fabbricato, i fabbricati che stavano ingabbiati ho detto Ministro ma io devo come cittadino terremotato, devo fare il progetto per questa casa che non so se nel piano di ricostruzione verrà mantenuta in piedi oppure sarà demolita per allargare gli spazi sociali, gli spazi che dovrebbero proteggere la popolazione da un altro eventuale sisma che potrebbe certamente verificarsi sul posto. Il Ministro ha detto no e io sono venuto qua per rendermi conto della situazione e credo che debba essere stato, doveva essere fatto immediatamente il piano di ricostruzione.